Buonasera e benvenuti a Cani, Gatti e Compagnia, come sapete la nostra trasmissione dedicata al mondo degli animali. Vi presento subito i miei ospiti, parto da un'amica Francesca Larghi. Ciao Franci, grazie per essere qui con noi. Ciao Nathalie, grazie dell'invito. Allora tu sei qui perché questa sera parliamo di toilettatura e parliamo della Federazione Nazionale Toilettatori, di cui tu sei vicepresidente e allevi anche questi meravigliosi cagnolini che hai in braccio a te, gli schnauzzer nani bianchi e il tuo allevamento si chiama White King. Loro sono meravigliosi, li abbiamo conosciuti tante volte all'interno della nostra trasmissione e questa sera ci faranno da modelli perché parleremo di toilettatura soprattutto in una fase molto delicata che è quella del cucciolo, quindi parleremo proprio dei primi approcci, di come avvicinarci, i primi bagnetti, a cosa fare l'attenzione. Piccoli consigli che possono davvero cambiare la vita al cucciolo e soprattutto fargli vivere questo momento come un momento di piacere. Insieme a lei abbiamo il consigliere regionale della Lombardia, della Federazione Nazionale Toilettatori, Alessio Trovato. Benvenuto Alessio. Grazie. Imbraccio a te una bellissima, una femmina giusto, di Maltese. Ecco, grazie a lei capiremo proprio come avvicinarci a un pelo così bello ma allo stesso tempo che può essere complicato, può spaventarci. Invece anche qui, grazie a piccoli accorgimenti, capiremo come tenere sempre in ordine il manto del nostro cane a pelo lungo. Non siamo soli perché insieme a noi c'è anche Edgar Meyer. Ciao Edgar, sono felicissima che sei qua con noi. Ciao Natali, buonasera a tutti, sono felice anch'io. Allora, tu sei presidente di Gaia Animali e Ambiente, hai fatto con noi tantissime rubriche, sei sempre molto attivo per quanto riguarda i diritti degli animali. Proprio in questa trasmissione oggi abbiamo diverse tematiche da affrontare insieme perché sono sempre di più i casi da parte dei cittadini che si lamentano, che denunciano situazioni di maltrattamento o anche situazioni di vita comune come ad esempio può essere il nostro cane che abbaia, dà fastidio al vicino, ma il nostro cane ha il diritto di abbaiare sì o no? E lo capiremo proprio nel corso della trasmissione Edgar. Tanto ti dico assolutamente sì, poi approfondiamo. Allora, parto proprio da te, io vorrei riparlare, riscoprire insieme a te questa bellissima associazione Gaia Animali e Ambiente, perché è non solo animale ma anche ambiente, quindi vi occupate delle tematiche green. Sì, di Gaia che è il pianeta Terra, come lo chiamavano gli antichi, e quindi che è il nostro pianeta, quello che ci ospita e ci ospita tutti quanti, non soltanto noi umani ma tutti gli altri animali. E noi come Gaia Animali e Ambiente diciamo che bello se riusciamo a convivere tutti insieme con rispetto. In casa nostra, quando c'è qualcuno che è disordinato e lascia in disordine, lascia sporco, spesso produce nervosismo e anche litigi. La stessa vale sul pianeta Terra. Se noi lo teniamo bene, con rispetto, ordinato e rispettiamo la nostra casa comune, come l'ha chiamata anche Papa Francesco, siamo tutti più sereni. Se invece la sfruttiamo, lasciamo in disordine, la inquiniamo, probabilmente si produce nervosismo, cattiverie e siamo tutti un po' più arrabbiati. E allora ci occupiamo anche di questioni ambientali. Però la maggior parte dei nostri utenti ci chiede di occuparci di diritti animali perché su quattro mail tre riguardano i diritti animali e uno alla tutela dell'ambiente. Noi facciamo entrambe le cose. Ecco Edgar, se penso che proprio nel recovery che abbiamo visto tutti in questi giorni, una grossa fetta di dei futuri investimenti è proprio dedicata alla parte green, all'ambiente, perché questa Terra è davvero al limite. Non lo dice l'ambientalista e basta, ma è una questione ormai a livello mondiale. Sono tanti gli aspetti che mettono sotto pressione il nostro pianeta. Sicuramente l'inquinamento da parte delle fabbriche, poi lo sappiamo tutti, le nostre case che riscaldiamo emettono molto calore, quindi questo fa aumentare anche la CO2, le emissioni, la stessa temperatura della Terra che sta aumentando. Però c'è anche una larga fetta che sono gli allevamenti intensivi, perché gli allevamenti intensivi hanno un grave impatto sul nostro pianeta. Eppure, nonostante questo periodo ci abbia insegnato che i sacrifici si possono fare per un qualcosa in cui tutti si crede, in un qualcosa che speriamo di questo Covid, di poterlo sconfiggere, sicuramente anche per quanto riguarda l'allevamento intensivo, una riduzione del consumo di carne sarebbe una buona pratica per il futuro. Guarda, secondo molti ricercatori, la seconda causa di emissioni di gas climalteranti è proprio l'allevamento intensivo, cioè l'industria della carne, seconda causa di emissioni di gas climalteranti, che non sono solo la CO2, ma sono il metano e altri gas climalteranti, che sono ancora peggiori della CO2, per quello che riguarda appunto il cambiamento del clima, intanto mi viene a trovare, è simpaticissimo, siamo già diventati amici prima. E quindi sì, una cosa che possiamo fare tutti noi, perché è vero che la Terra è in difficoltà, in difficoltà non tanto la Terra in quanto pianeta Terra, perché il pianeta Terra continuerà a esistere per miliardi di anni. Sono gli abitanti del pianeta Terra che cominciano e nei prossimi decenni, nei prossimi secoli, se non interveniamo, avranno sempre più difficoltà. Noi e tutti gli altri mammiferi e in genere tutti gli abitanti, che dovremmo abituarci a un cambiamento del clima, quindi a temperature più alte e a sconvolgimenti micidiali. E però tutti noi potremmo fare qualche cosa, anche nel nostro piccolo, è quello che hai detto, e che spesso si ripete anche qui in trasmissione da te, ma che bisogna dirlo continuamente, è ridurre il consumo di carne, oppure addirittura azzerarlo, ovviamente, come nel mio caso, come nel tuo caso, che siamo vegani, vegetariani. Però senza diventarlo immediatamente, se uno è abituato a mangiare la carne, ma ridurlo e scoprire, tra l'altro, che non è un sacrificio perché l'alimentazione vegetariana o vegana in realtà ti consente comunque un ampio sprettro di cibo che puoi portare sulla tua tavola. È anche fantastico, tra l'altro sul sito nostro, gaiitalia.it, ci sono ricette vegetariane e vegane, succulente, gustose, buonissime, che si possono scaricare gratuitamente. Facciamo almeno la prova e poi si scopre che è divertentissimo. Ecco, quindi Gaia come si occupa dell'ambiente? Cosa ha fatto in questi anni? Ma guarda, noi facciamo sensibilizzazione e informazione, ovviamente, però poi siamo anche presenti direttamente sul territorio. Ormai Gaia Animal Ambiente che esiste da 26 anni e siamo un'associazione di volontariato, puro volontariato, ma abbiamo tutta una serie di delegazioni sparse per l'Italia. La sede centrale è a Milano, quindi in Lombardia siamo più o più forti, e abbiamo un po' di delegazioni di volontarie e volontari. A seconda delle delegazioni ci sono diverse attività. Un attimo prima di entrare in trasmissione ero al telefono con la delegazione Gaia di Basilio, che è un comune in provincia di Milano, e quella delegazione lì si occupa di gatti, colonie feline, ma ne hanno un sacco, gestiscono 110 gatti distribuiti in 11 colonie feline. Quindi tutti i giorni si occupano di questi gatti, li vanno a cibare, li tengono sotto controllo demografico per evitare che ci sia in continuazione nascite di piccoli gatti, di gattini che non sai poi dove mettere, fanno una brutta fine, e li tengono curati. Quindi è un lavorone, però altre delegazioni che si occupano di tutte altre cose. C'è chi fa volontariato in Canil o chi si occupa, per esempio adesso su Peschiera Borromeo, stiamo facendo una grande lotta, vinta probabilmente, per evitare l'abbattimento di 170 pioppi cipressini, un viale bellissimo, il più bello di Peschiera Borromeo, che secondo l'amministrazione doveva essere abbattuto perché è pericolante. In realtà no, abbiamo chiamato un agronomo che ha dimostrato che quegli alberi non sono pericolosi, quindi non sono a rischio caduta, e probabilmente ce l'abbiamo fatta e quindi gli alberi non verranno tagliati. Ecco, gli alberi che sono preziosissimi nelle nostre città, tantissimi alberi sono stati anche abbattuti per, come posso dire, poter permettere a questo 5G che arriverà di poter irradiare la propria frequenza senza interruzioni. Gli alberi però sono così preziosi, sono così preziosi eppure trovano tutte le scuse più banali per poterli abbattere. Fortunatamente ci sono associazioni o gruppi anche di cittadini che proprio si battono per evitare che questi alberi secolari alcune volte vengano abbattuti senza un reale motivo. E anche per rimboschire altre delegazioni di GAIA Animali Ambiente si occupano. Noi collaboriamo anche con le istituzioni perché cerchiamo di farle lavorare bene, ma collaboriamo, mettiamo a disposizione le nostre conoscenze e quindi cerchiamo di fare in modo che le istituzioni capiscono che è necessario anche rimboschire, cioè piantare alberi, non solo non tagliarli ma piantarli, sempre in funzione anche di minor emissioni di gas climalteranti. Però se pensiamo, Edgar, un albero che magari ha 50, 100 anni rispetto a un alberello che veramente ci mette una vita a crescere e a poter dare, come posso dire, ossigeno, aria pulita, sicuramente prima di andare a tagliare un albero, più alberi, come in quel caso lì, di quelle dimensioni, si può anche mettere giù anche nuove piante senza dover tagliare quelle che ci sono. Assolutamente, non vanno abbattuti ma vanno ripiantati. Assolutamente sì, rendiamo più verdi queste nostre città che ne hanno bisogno per non parlare delle campagne, che qua si aprirebbe un altro capitolo perché se si guarda anche nelle nostre campagne ormai è difficilissimo trovare un albero, soprattutto in Lombardia, qualcosina di più c'è in Emilia-Romagna, ma aiuto. È il tema dell'agricoltura intensiva, però poi apriamo un'altra. Purtroppo molto difficile, non voglio dilungarmi anche se è una tematica a me particolarmente, come posso dire, ci tengo veramente tanto. Allora Edgar, voi avete un, come posso dire, uno sportello importantissimo che è la parte degli avvocati di Gaia. Questi avvocati come possono aiutare il cittadino nelle tematiche più comuni? Sì, questo è un aspetto della nostra società di cui sono orgogliosissimo. È Gaia Lex, che è pomposamente il centro di azione giuridica di Gaia Animali Ambiente. In realtà cos'è? È una rete di avvocati, tra l'altro la maggior parte molto giovani, motivatissimi e anzi la maggior parte donne. E questo fa ancora più piacere, che probabilmente sono più sensibili, sono più empatiche. Come sono utili al cittadino? In diversi modi. Allora, in primo luogo agiscono facendo delle delunce querele, esposti direttamente per l'associazione e qui fanno un'attività gratuita da volontari, nel caso di maltrattamento di animali per esempio. Però noi facciamo attraverso questa rete di avvocati che sono distribuiti praticamente su tutte le regioni d'Italia, abbiamo qualche avvocato, forniscono anche informazioni. Cioè, noi riceviamo nella sede centrale di Milano un sacco di mail o di telefonate di persone che ci dicono aiuto, aiuto, l'amministratore di condominio dice che il mio cane abbaglia troppo e quindi vuole che io me ne disfi perché disturba il vicino di casa, l'esempio che hai fatto prima, ma gli esempi sarebbero tantissimi. Noi, in quel caso, rispondiamo spiegando qual è la legge, cosa dice la legge, quali sono gli articoli di legge, come potrebbe imbastire una lettera per l'amministratore di condominio. Quindi facciamo informazioni e quello è totalmente a titolo gratuito, cioè la risposta, la consulenza iniziale. Se invece la persona ha poi bisogno di un avvocato, un avvocato esperto di diritti animali che ci mette anche passione perché si deve difendere e quindi c'è bisogno di una produzione da parte dell'avvocato, a quel punto noi segnaliamo, diciamo, guarda, tu ci chiami da Cremona, vicino a Cremona c'è questo avvocato che è referente di Gaielex, quindi ti diamo il suo indirizzo, consultalo, però a quel punto lo devi pagare, diventa un rapporto cliente-avvocato. Gaia non c'entra più niente, semplicemente segnaliamo, c'è un avvocato bravo in questa materia e te lo segnaliamo. Quindi ha questo tripolo aspetto, da un lato le denunce che facciamo proprio come associazione, dal lato l'informazione assolutamente gratuita, terzo luogo se hai bisogno di un avvocato che ti difenda, te lo segnaliamo che però è un avvocato, è un professionista e quindi ovviamente va pagato. Ecco, chiedo alla regia se mi manda anche qua nel megascreen l'articolo che appunto stava mandando in onda, che lo commentiamo insieme, perché queste sono alcune delle cose che succedono nella quotidianità. In questo caso spara e uccide gatta della vicina, non è né la prima volta né purtroppo sarà l'ultima, però in questo caso come si può difendere un cittadino? Qua adesso magari leggiamo insieme. La gattina di 7 mesi trovata dalla proprietaria riversa a terra in fin di vita in una pozza di sangue è stata colpita da numerosi colpi di arma ad aria compressa. Grazie a Gaia Lex Arezzo, in questo caso con l'avvocato Simona Innocenti e il dottor Tommaso Scaravicchi, il presidente di Gaia Animali e Ambiente Edgar Meyer ha firmato denuncia querele e l'associazione si costituirà parte civile nel processo. Quindi un ringraziamento anche ai carabinieri di Arezzo che hanno individuato il colpevole. Ecco, in questo caso individuare anche il colpevole c'è anche la possibilità di poter mettere in pratica una punizione, perché comunque chi maltratta, chi fa del male agli animali e in questo caso uccide è perseguibile per legge. Caspita sì, c'è una legge in Italia molto avanzata, che è la 189 del 2004, che prevede addirittura il carcere, in alcuni casi anche se sono pochissime le persone che sono finite in carcere, comunque prevede che si venga puniti in caso di maltrattamento o di uccisioni di animali. In questo caso siamo stati fortunati perché i carabinieri hanno individuato la persona, hanno trovato le pistole in casa e quindi c'è un presunto colpevole abbastanza certo e quindi come Gaia abbiamo potuto fare appunto un esposto denuncia e se ci sarà il processo, come immaginiamo, ci costituiremo parte civile anche come associazione. In questo caso appunto gli avvocati di Gaia, di Gaia Lex, lavorano per Gaia assolutamente a titolo gratuito, perché non è la cittadina che ci ha chiesto aiutatemi, ma proprio abbiamo letto dai giornali, poi abbiamo contattato la cittadina e quindi facciamo noi la denuncia. Vanno perseguiti, le leggi in Italia ci sono e si tutelano anche con gli avvocati nei tribunali. Ecco, poi volevamo anche appunto a inizio trasmissione parlavamo del tipico esempio del cane che abbaia. Mi viene in mente una levilletta schiera, un condominio. Dicevi tu, il cane può abbaiare, però a volte non è proprio così facile e soprattutto si cercano anche di mantenere una sorta di buoni rapporti tra vicinato. Però dopo arrivi a un punto che diciamo, quando ti torturano dici basta, adesso io faccio valere i diritti del mio cane. È anche giusto comunque rispettare il vicinato, perché è chiaro che un cane che abbaia 24 ore su 24. È sicuramente anche un cane che non sta bene, perché è un cane che tutto il giorno abbaia vuol dire che c'è qualcosa che non va. È sicuramente un cane abbandonato a se stesso. Raccontaci tu, Etta. Hai detto alla perfezione. Allora, in Italia c'è una norma, sembra sia l'articolo 654 del codice penale, ma non vorrei dire una scemenza. E poi ci sono comunque tutti i regolamenti comunali che prevedono la tutela della pubblica tranquillità. Cioè non si può produrre rumori molesti in maniera anche continuativa che disturbino appunto la pubblica tranquillità. E allora perché dicevo che il cane può abbaiare? Il cane che abbaia, come in un caso abbastanza recente, quattro cani in una villetta che stavano in casa e anche nel giardino stavano e stanno, denunciati, non i cani ma la proprietaria, dal vicino perché è infastidito, perché questi cani ogni tanto abbaiavano se qualcuno passava lungo la siepe del giardino, questi abbaiavano. Inizialmente ha preso una sanzione di 300 euro, ma la proprietaria non c'è stata, ha fatto ricorso e sentenza a finale ha vinto perché, sentenza del giudice interessante, dice la norma tutela la pubblica tranquillità. In quel caso era soltanto un vicino che si lamentava perché gli rompevano le scatole, mentre tutti gli altri non dicevano assolutamente nulla, hanno testimoniato che allora i cani non davano fastidio, quindi la pubblica tranquillità era tutelata perché i cani abbaiavano una volta, due volte, tre volte al giorno per un minuto, che è fare un po' il proprio mestiere anche di cani da guardia o comunque avvertivano che stava succedendo qualcosa, esattamente come se qualcuno ci suona al citofono e il cane abbaia una volta, due volte al giorno. Altro è, esattamente come dicevi, se lasciamo il cane tutto il giorno fuori sul balcone, non può manco entrare in casa per otto ore, dieci ore, giustamente il cane si lamenta, ulula, abbaia, giustamente perché non può socializzare, non può fare nulla e giustamente le persone si sentono anche angosciate, oltre che disturbate dall'abbaia del cane. Allora è giusto intervenire a tutela del cane e a tutela della pubblica tranquillità, quindi è quello il discrimine, la pluralità di persone che dichiarano di sentirsi disturbate, perché qualche volta, l'abbiamo visto, c'è un vicino di casa che è infastidito, che ci è antipatico e allora si litiga e si prende a pretesto l'animale, ma se è un vicino di casa in genere che si lamenta per l'abbaio perde perché la sentenza è favorevole. Hai parlato di balcone, sono sempre di più le segnalazioni di cani che sono lasciati sul balcone, addirittura ho letto anche recentemente un cane dimenticato sul balcone da una coppia che è proprio morto anche per il caldo, perché comunque nel sud Italia in questi giorni se da noi ha fatto caldo, là c'era ancora più caldo. Ecco, come va gestita correttamente la questione cane e balcone? Anche in questo caso penso che la legge parli è chiaro o no? No, allora non c'è una legge precisa che dica non si può tenere il cane sul balcone. Ci sono dei regolamenti comunali, però ci sono dei comuni che hanno inserito una norma simile all'interno del proprio regolamento comunale, tipo il regolamento di tutela animali. Non ce l'hanno tutti i comuni d'Italia e non esiste una norma nazionale che vieti di tenere i cani sul balcone, lo fanno alcuni comuni, ma appunto si interviene nel senso che se il cane da segni è esposto alle intemperie, quindi costantemente al sole piuttosto che costantemente alla pioggia, non viene mai portato in passeggiata, ci potrebbe essere la possibilità che risulti in stato di maltrattamento. E allora è possibile, non dobbiamo farlo, quindi come ci si comporta? Primo non si tiene il cane sul balcone sempre, ovviamente. Se però è un vicino di caso, è una persona che sappiamo, si può fare una segnalazione, inizialmente si fa una segnalazione alla polizia municipale oppure alle guardie zofile, che sono le autorità preposte a verificare se il cane è in situazione di maltrattamento. Se il cane è in situazione di palese maltrattamento, poi ci pensa appunto a polizia municipale o i carabinieri o le guardie zofile. Quindi quello da fare è fare una segnalazione alle autorità preposte a fare in modo che questo non accada. Vorrei commentare insieme a tutti voi un video che sta facendo il giro del web appunto di questo cane lupo cecoslovacco, il video appunto dell'istruttore cinofilo che tira un calcio a un cane e le immagini ovviamente hanno impressionato tantissime persone, non sono passate inosservate. È successo in Toscana a massa marittima, pare quattro anni fa, pare che questo video stia circolando adesso ma che non sia recente. Il protagonista è, dicono, io non ne ho la certezza, riporto quanto detto da un articolo, Claudio Mangini, che è un istruttore cinofilo internazionale e come specifica nella sua pagina Facebook Animal Trainer per il cinema. Allora queste sono le immagini, io lascerei la parola a te Edgar e poi vorrei sentire anche Francesca o Alessio se vogliono commentare queste immagini. Sì, noi siamo stati subissati anche noi ovviamente di mail, ci è stato girato questo video chiedendo di fare qualcosa, di intervenire e quindi immediatamente si sono attivati alcuni dei nostri avvocati, tre per la precisione, che ci stanno lavorando. in realtà quello che fa un avvocato di Gaia Lex è appunto in questo caso fare un esposto alla procura della Repubblica per lasciare la parola poi eventualmente ai giudici che giudicheranno se questo è un maltrattamento di animale oppure no. Complica il fatto che effettivamente questo è un video di quattro anni fa, l'hanno appunto verificato anche i nostri legali e quindi questo complica un po' le cose per poter fare un esposto, una denuncia. Di sicuro l'opinione, allora sicuramente la situazione lì non è facile, sicuramente questo che è un cane lupo cecoslovacco è un cane che ha degli atteggiamenti aggressivi, tuttavia la nostra opinione è che un educatore cinofilo non possa e non debba intervenire in questa maniera. Non è così che ti fai rispettare anche se lui ovviamente si difende, dice io ho salvato questo cane lupo cecoslovacco perché se lui andava avanti con questo atteggiamento aggressivo gli altri cani gli sarebbero saltati addosso e quindi gli ho salvato la vita. Tuttavia ci sono altri metodi e ci sono educatori cinofili che utilizzano ben altri strumenti. Francesca tu vuoi commentare, vi siete fatti anche voi un'opinione su quelle immagini che abbiamo appena visto? Non si parla d'altro da alcuni giorni, anche io quattro anni fa non avevo visto queste immagini, ne discutevo questa mattina con dei cinofili. Il mio commento primario è che c'è un errore di base, questo cane prima di questo video ha aggredito delle persone, ci sono dei video precedenti che non sono stati resi pubblici, ha morso violentemente, ci sono delle scene molto brutte, quindi è un cane che sicuramente va rieducato, non tanto in questa circostanza perché va bene, ha avuto degli atteggiamenti aggressivi ma non così discutibili come il video ho visto dove ha morso i suoi padroni in realtà, nel giardino della villetta è stata salvata la figlia se non sbaglio per miracolo dalla madre e fratello l'hanno tirata in casa, però l'errore di fondo è la vendita di determinate razze a famiglie che non hanno una cultura adatta a gestire delle razze con delle particolarità, con delle peculiarità di lavoro, di guardia, piuttosto che nessun cane nasce cattivo, io da allevatore dico è una cosa che non è così, però ci sono razze che vanno sapute gestire, quindi ha delle volte l'errore di base, questo cane probabilmente è finito in una famiglia che non aveva le competenze per gestirlo, ha sviluppato un'aggressività verso l'essere umano dimostrata ai video precedenti, non corretta perché non hanno saputo gestire, non hanno saputo percepire magari dei campanelli d'allarme di quando era cucciolo, quando mordicchiano per gioco, in realtà va bene, fino a un certo punto poi bisogna fermare l'animale, ma nel momento in cui si intiragisce con il cucciolo e si gioca a canata lì, quindi l'errore di base è iniziale, poi i calci, dal mio punto di vista non esiste che si prende a calci un animale in questo modo, sicuramente un animale che va corretto, perché aveva già morso diverse volte, quindi si poteva arrivare quasi a rischio di soppressione, la famiglia non poteva proprio più tenerlo, però bisogna partire dall'inizio, farsi una cultura, non si sceglie un cucciolo e si porta a casa un cucciolo perché è bello, perché va di moda, l'ho visto in quel film, perché lo fa la pubblicità, tante volte ci sono delle pubblicità con una razza e si diffonde nel giro di due anni a macchia d'olio, vanno scelti degli animali che siano adatti come caratteristiche anche al nostro stile di vita, alle nostre capacità, quindi secondo me bisognerebbe fare delle consulenze con educatori, andare a chiedere ho avuto il cane, non ho mai avuto il cane, svolgo questo tipo di vita, questo lavoro, d'estate vado in ferie, non vado in ferie, poi scegliere quale razza adatta a noi, ma non per estetica. Io concordo con le parole che hanno detto i miei ospiti, purtroppo il più delle volte si porta a casa un cane ma realmente non si conosce nulla, né in generale sui cani e né in questo caso, c'è un cane di razza, quindi né sulla razza, tra l'altro il lupo cecoslovacco è un cane anche piuttosto particolare, non è proprio di semplicissima gestione, è un cane di gran moda, come diceva Francesca, e sono cani che purtroppo nei canili ce ne sono sempre di più, perché sono cani veramente molto difficili da gestire. Io quello che mi chiedo di questo video, se io non sapevo che questo cane avesse morso prima, quindi che fosse un cane diciamo bollino rosso ad alto rischio, tra virgolette non vedo grande interesse da parte del proprietario farlo socializzare con degli altri cani, forse bisogna fare anche un altro tipo di lavoro, di percorso, soprattutto se è aggredito in famiglia, se è aggredito le persone della propria famiglia. La socializzazione è una parte fondamentale e importantissima per i cani, però su un cane di questo tipo forse andarlo, adesso non penso che gli altri due siano cani di famiglia, di solito sono cani che utilizzano per fare la socializzazione, perché i cani ovviamente molto equilibrati, predisposti a socializzare con l'altro cane, non so quanto fosse necessaria questa procedura per poi arrivare a un calcio. Sicuramente io sono la prima a dire che anche quando i miei figli fanno gli stupidi, una scopacciata in testa gli arriva, adesso quello piccolo è molto piccolo, però quello grande quando è servita è servita e penso che tanti di noi che stiamo ascoltando dai nostri genitori qualche sberletta ce la siamo presa per non dire anche sberlioni. Però questo diciamo ci aiuta a crescere, ma un conto è una sberletta data in un determinato posto, in un determinato punto. Io in questo video vedo particolare violenza, soprattutto anche in un punto molto delicato che è lo stomaco, l'addome nel cane, quindi non mi sembra ecco come dicevano i miei ospiti una riabilitazione di questo soggetto, a quanto pare pericoloso, a bollino rosso, appropriata. Detto ciò adesso ci lasciamo per una pausa pubblicitaria, al rientro saremo sul palco perché inizieremo a vedere come avvicinarci al cucciolo, alla toilettatura, come gestire il primo bagnetto. Eccoci qua, come promesso siamo sul palco e sono insieme a Francesca Larghi che è vicepresidente della Federazione Nazionale Toilettatori e Alessio Trovato, consigliere regionale della Lombardia della Federazione Nazionale Toilettatori. Allora maggio c'è una data molto importante perché alle ore 21 con l'onorevole Sara Moretto ci sarà una diretta dove si discuterà questa proposta di legge per il riconoscimento dei toilettatori. Voi vi state battendo per il riconoscimento della categoria? Noi ci stiamo battendo da circa tre anni come Federazione Nazionale Toilettatori per far riconoscere la nostra professione che ad oggi non è normata, questo per una nostra sicurezza e prima di tutto per una sicurezza dei nostri amici a quattro zampe perché come Natalie tu ben sai ad oggi qualsiasi persona può aprire una toilettatura senza avere nessun tipo di conoscenza degli strumenti da utilizzare e neanche da quello dal punto di vista di quello che è l'animale, il benessere, la gestione dell'animale sul tavolo, la sicurezza. Ci stiamo battendo per avere una norma che ci regolamenti e incrociamo le dita perché adesso diversi politici ci stanno seguendo e ringrazio l'onorevole Sara Moretti e il nostro presidente Chiara Piccionetti. Sì, ecco noi adesso parliamo un po' dell'approccio di come avvicinarci alla toilettatura in casa, del cucciolo, a cosa fare attenzione, però già abbiamo dedicato una puntata a questo argomento ma è giusto ricordare visto che appunto stiamo parlando del riconoscimento della categoria. Quanto è importante essere attenti quando portiamo il nostro cane a toilettare a non guardare purtroppo quello che fa la maggior parte della gente soltanto il prezzo più basso e il prezzo più concorrenziale. Ricordiamoci che quando noi portiamo il nostro cane a toilettare non è solo un momento diciamo dove il nostro cane si farà bello, tornerà a casa pulito, è un momento anche particolarmente emozionante per il nostro cane, emozioni che ovviamente non sono idilliache come le nostre. Il nostro cane se non è in mani corrette può vivere questo momento come un grandissimo stress. Esattamente, il cucciolo che entra per la prima volta in toilettatura deve avere prima di tutto terminato il piano vaccinale perché entrerà in un ambiente dove ci sono altri cani che girano, che possono comunque anche se vaccinati poter trasmettere delle malattie, quindi finito il piano vaccinale. Molto importante è parlare col toilettatore, un toilettatore competente ci saprà consigliare qual è la procedura più adatta, magari la prima volta si porta il cane per un semplice bagnetto per vedere com'è l'impatto con l'acqua se non ha mai provato a morire in allevamento, oppure se un cucciolo salvato dal canile magari non ha avuto la fortuna di avere questa piccola esperienza prima di essere adottato, quindi giustamente bisogna avere un approccio dolce, nello stesso tempo sicuro, perché un cane che non si sente in mani sicure si agita, se sente la nostra sicurezza è anche molto più tranquillo. Un primo approccio può essere la spazzolata, il primo taglio delle unghie, delle piccole cose, non è detto che la prima volta sia necessario eseguire la toilettatura completa, deve conoscere la toilettatura, deve essere premiato a fine toilettatura, un'esperienza positiva termina con un premio, questo riguarda anche l'educazione, quindi il cane deve rientrare in toilettatura, magari non sarà il giorno più felice della sua vita, preferirebbe andare al parco, ma deve scodinzolare, non deve avere la coda tra le gambe, non deve essere terrorizzato, perché il rapporto con il toilettatore deve essere un rapporto positivo. Ecco, ricordiamo anche l'importanza della professionalità del toilettatore, perché un toilettatore non preparato, che magari si improvvisa in questo mestiere, può anche arrecare dei danni alla cute e al pelo del nostro animale, in alcuni casi sono dei danni che sono irreversibili. Vi posso fare un esempio concreto, Natalie, grazie per questa domanda, capita delle volte che delle persone, perché non sanno quali danni possono creare, ci chiedono magari di tosare il volpino, faccio un esempio perché il volpino è un cane molto comune, i volpini non si tosano, andare a tosare il volpino perché perde pelo, questa cosa nelle case, nelle famiglie, può creare dei gravissimi rischi di alopecia, di problemi di dermatite, perché andare a tosare non solo il pelo diciamo quello duro, il colore che noi vediamo bianco e rosso, ma la parte di sottopelo che ha dei gravissimi danni all'animale e diverse altre razze che hanno un pelo di tipo primitivo, un pelo da muta, non possono essere tosate. Quindi se entrate in un negozio di toilettatura, ponete questa domanda e il toilettatore vi spiega che non si può fare, vi consiglia qual è il metodo migliore invece per far cadere la muta in un metodo completamente diverso che non danneggia l'animale, siete da un professionista. Se una persona prende una tosatrice, vi rasa a pelle, scusate il termine, un volpino, non è professionale, salvo rarissimi casi in cui è il veterinario a richiederlo per problemi, magari il cane ha un problema all'epidermide e quindi magari è necessario spalmare determinate creme, ma sono rarissimi. Veniamo a noi, veniamo al cucciolo, cerchiamo di capire appunto un proprietario, che questo cucciolino è arrivato a casa da poco, decide di fargli il bagno intanto. In che periodo si consiglia fare il primo bagno? Cioè è troppo presto in alcune volte? Ci sono delle temperature che dobbiamo rispettare per evitare ovviamente che il cucciolo sia mali? Allora in casa, una volta che il cucciolo arriva in casa si presuppone che abbia un'età superiore ai 60 giorni e sia stato consegnato almeno col primo vaccino completo. Quindi per andare in toilettatura ne passeranno almeno altri 20-25 perché il cane dovrà eseguire il secondo vaccino e dal secondo vaccino almeno deve trascorrere un'ulteriore settimana perché deve avere una copertura completa. Per quanto riguarda il bagno a casa si può fare, magari non il giorno stesso che lo portate a casa che lascia la mamma, lascia i fratellini, lascia un ambiente con odori e rumori conosciuti ed entra nella vostra casa. Abbiate pazienza se non ha il profumo migliore del mondo, però io lo amo l'odore del cucciolo, però magari non è profumatissimo ma non importa. Al massimo in quel caso potete utilizzare delle salviettine detergenti per dare una prima pulita diciamo al manto, al musino, le parti intime, i piedini del vostro cucciolo. Dopo qualche giorno quando vedete che il cane è ambientato potete anche decidere di lavarlo. Fondamentale una superficie antiscivolo, quindi se lo lavate nella vasca da bagno di casa, nella doccia piuttosto che in un grosso lavandino tipo quelle vasche da lavanderia sarebbero le migliori, non tutti però ovviamente le hanno a casa. Un antiscivolo sotto perché è una prima cosa che può spaventare il cucciolo sono le zampette che sulla ceramica partono e perde l'equilibrio. Un cane è terrorizzato all'idea di perdere il suo equilibrio, sempre, anche in natura. Quindi prima regola fondamentale. Seconda, non si immergono i cani. Quindi adesso poi vedremo, il cane va bagnato per gradi, meglio se con l'ausilio di una spugnetta. Ho preso una spugnetta normale che potete trovare in qualsiasi supermercato, niente di professionale. E quindi adesso noi qui non abbiamo una vasca e blanca. Ovviamente è una cucciola, noi chiacchieriamo, quindi cosa faremo? Prepareremo il nostro shampoo diluito in magari un litro, un litro e mezzo di acqua per un cucciolotto. Possiamo utilizzare una semplice frusta da cucina, due euro, niente. Andiamo a mescolare bene perché è sbagliatissimo mettere dello shampoo puro sulla cute del nostro cane. Anche qui poi non parliamo di marche, ma sicuramente se vi fate consigliare da dei professionisti ci sono shampoo che non sono aggressivi, non tolgono il fin lipidico sulla cute dell'animale, che è una cosa fondamentale, non utilizzate degli shampoo troppo aggressivi o i nostri prodotti. Il termine neutro è un termine che non esiste perché le razze non hanno tutti lo stesso pH. Quindi possiamo partire da razze dove il pH può essere 5, a razze tipo andiamo verso il pastore tedesco dove il pH è 8, quindi quando vi scrivono shampoo neutro mi dovrebbero dare qualche specifica in più. Queste sono cose di marketing. Cosa facciamo? Immergiamo la nostra spugnetta nella ciotola e iniziamo a andare a bagnare il cane. Non si parte mai dalla testa, perché se il mio cane non ha mai fatto il bagno io inizio a mettergli bel sapone e l'acqua sulla testolina, si agiterà. Quindi io inizierò e bagnerò più volte, alzerò attenzione a come alziamo le zampe. Ecco, vediamo anche un video che è proprio realizzato per noi. Sì, un video che è stato realizzato, è una cagnolina che adesso sta dormendo. Abbiamo Clara che non è molto 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 felice. Vedete le orecchiette all'indietro perché dice ma io stavo bene a giocare con i miei fratellini in giardino. È un secondo bagno perché Clara ha tre mesi e mezzo. È la seconda volta e come vedete la mia collega o alza leggermente all'esterno ma non esagerate perché hanno le anche molto delicate. Noi rischiamo di fare male il cucciolo oppure si può alzare all'indietro ma sempre leggermente. Non dobbiamo esagerare. Facciamo fatica noi ma non facciamo far fatica al cane. Sforziamoci noi. Andiamo a pulire anche sotto i piedini che è una cosa fondamentale perché arriva il periodo dei forasacchi. Arriva l'estate. Andiamo a pulire, andiamo a controllare tra le dita. Pericolosissime per le orecchie dei cocker, dei cavalier, le zampe di qualsiasi animale. Possono infilarsi ovunque e anche al padrone più esperto io vi assicuro che può succedere. È molto pericoloso. Facciamo attenzione quindi quando laviamo il cane o semplicemente andiamo a spazzarlo controlliamo i punti più a rischio. Un altro, Blanca perdonami che ti giro. Un altro dei punti più a rischio quando fate il bagnetto o pettinate il cane per quello che riguarda forasacchi, insette, la zecchina è proprio tra le dita. Andiamo ad alzare il pelo per chi ha cani a pelo lungo e per chi ha cani a pelo raso è un po' più facile. Andiamo a controllare perché spesso si mettono tra le dita diciamo della zampina e quando il forasacco entra qui può salire fino a arrivare veramente in modo proprio eccessivo quasi arrivare su anche fino al polmone, è pericolosissimo. Quindi è un nemico di tutti. Oppure altri animaletti, altri insetti, legnetti, una spina. Possiamo fare attenzione nel bagnetto con una procedura. Come vedete lei ha una cucciola sempre di circa 4 mesi. Quindi una volta che poi noi andremo con la spugna, quando laveremo, nel video si vedeva anche la parte della testolina, attenzione agli occhietti. Usando prodotti delicati non bruciano e non creano rossore. Però facciamo sempre attenzione, soprattutto la prima volta. Andiamo a pulire i musi che abbiano i baffi, che abbiano come il maltese, in questo caso al pelo corto, ma possono avere il pelo lungo, lo shizu, piuttosto che il carlino. Attenzione, i bulldog francesi che hanno il muso molto schiacciato, in quel caso lì bisognerà andare a pulire anche all'interno delle pieghe, perché è un punto dove si possono creare dermatiti, parastiti, tantissimi problemi. Però sempre attenzione agli occhietti, anche quando poi andremo a sciacquare con il doccino, procedura molto importante. Come fate per chi ha figli? Verificare la temperatura prima di fare il bagnetto. Polso, acqua. L'acqua deve essere tiepida, né fredda né calda. L'acqua ferda può portare il nostro cane a raffreddore, tosse, un cucciolo può venire addirittura alla polmonite, l'acqua troppo calda le può ostionare. Attenzione ai cani di colore bianco, che sulla temperatura sono molto delicati, quindi leggermente meno tiepida, mai l'acqua troppo calda. Le orecchie, altro punto, che a volte mi chiedono, ma se va l'acqua nelle orecchie gli viene lotite? Può essere, quindi se bagniamo le orecchie, attenzione a asciugarle sempre molto bene, ovviamente che qui col phon il cucciolo non avrà molta voglia, quindi andiamo a asciugare non con il cotone, che può perdere dei filetti, possono entrare con della garza sterile, anche con banale scottex se non l'abbiamo, ma niente che lasci i residui. Se abbiamo paura che il nostro cuccio, il veterinario ha detto guarda è delicato, ha già un principio di tite, quando lavate il cane potete prendere un bel batuffolo di cotone, metterlo all'interno del padiglione auricolare e l'acqua non scenderà. Questo può essere molto di aiuto. Il cane deve essere sciacquato molto bene, non devono essere residui, ci sono cani per i quali dopo lo shampoo è necessario applicare una maschera per evitare la formazione dei nodi. Io ai cuccioli lo faccio già, anche se il cucciolo cambia nodi, insomma è un po' difficile che il pelo è un po' corto, ma per abituarlo a una doppia procedura. I cani sono metodici. Quando noi gli insegniamo una cosa deve essere sempre quella, come per i cani non esiste il ni, o è sì o è no, quindi anche questo fa parte dell'educazione di base. Quindi in alcune razze verrà nello stesso modo diluendo il balsamo applicato su tutto il corpo, per alcune razze come la mia, come gli schnauzer, la crema verrà applicata solo sulle difese, quindi sulle zampe, su quello che la gonnella e la barbetta, perché la parte del corpo avendo un pelo duro, un pelo cheratinico non deve essere ammorbidita. Asciugatura, che è importante, non è da sottovalutare perché un cane che apparentemente ci possa sembrare asciutto e magari sotto rimane umido può portare anche a raffreddamenti, a influenze. Allora è molto molto importante asciugare un cane anche a luglio e agosto. Poi se parliamo di un cucciolo è fondamentale. Prima di tutto, prima di toglierlo dalla vaschetta, lo avvolgiamo in un asciugamano e iniziamo a frizionare per togliere l'eccesso d'acqua. Il phon. Ovviamente a casa non avete delle attrezzature specifiche, però potete usare il phon per capelli che utilizzate per voi. Di solito lo si usa a tre temperature, a metà più o meno, ma controllate perché in base al tipo di apparecchio che avete può essere anche fin troppo caldo. Verificate sempre su di voi. Molto molto importante non partire mai dalla testa, perché che cosa succede? Sentono il rumore delle orecchie di quest'aria. Loro hanno un udito molto più spiccato del nostro, quindi questo fruscio, questo rumore può dare fastidio. Quindi iniziamo ad asciugare il corpo. Quindi iniziamo ad asciugare, se possiamo, magari il cucciolo non starà così fermo. Ecco, come aiutarsi se il cucciolo dovesse divincolarsi? Ci sono delle posizioni che noi possiamo assumere con le mani per anche tranquillizzarlo? Allora, intanto come vedete, dato che anche se lei è un cucciolino abituato, ma sicuramente non è abituato ad un ambiente con telecamere e tutto quanto, quindi per tranquillizzarla io continuo a carezzarla in un modo leggero e costante. Quindi anche quando laviamo cuccioli di altre persone, Blanca, non ti vedo stressata, lei è molto rilassata, dormirebbe anche sul tavolino. Molto importante è tenere il nostro, intanto non asciugiamo il cane a terra, perché il cane a terra inizia a divincolarsi, che può scappare e rischiamo di più un'allussazione della spalla piuttosto che che si faccia male. Siamo in lavanderia, l'abbiamo lavato nella vaschetta, un bel asciugamano antiscivolo sulla lavatrice che se non è scivolosa, piuttosto che un piano, piuttosto che il tavolo della cucina, non succede niente, mettete un asciugamano, se avete paura vi fate aiutare da qualcuno, però tenendolo da sotto. Io tenendolo a mano sotto, do al cane una certa sicurezza. Ovviamente a casa non hanno questi laccetti di cotone che abbiamo noi per i tavoli, questi non fanno male all'animale, non cambia molto davvero un guinzaglio, ma è una sicurezza quando gestiamo i cani. Ecco, magari vorrei precisare, visto che ho sempre l'ansia di eventuali strozzamenti, se abbiamo la possibilità di ricreare questo, come posso dire, questo strumento per poter tenere in sicurezza il cane col guinzaglio, non dimentichiamocelo mai da solo, ecco, sempre in nostra presenza, perché potrebbe essere fatale. No, no, assolutamente. Il cane non va mai lasciato da solo, sia che sia a casa, sia da professionisti, è la prima regola della sicurezza e della gestione dell'animale sul tavolo. Quindi asciugheremo. Ecco, sì, quindi quando lo asciughiamo evitiamo di partire dalla testa per evitare di spaventarlo, come facciamo a essere sicuri che sia realmente asciutto? Allora, dipende dalle razze, perché le razze col sottopelo spesso sembrano asciutte e poi invece riesce l'umidità dopo 5 minuti, quindi quello che posso dire, asciugate completamente il vostro cane, vi faccio vedere con un fond di casa anche se non lo accendiamo, solo anche come tenerlo, ma fondamentale dopo 5 minuti magari gli controllate le unghiette o se non ripassate la mano in contropelo, perché spesso riesce un'umidità, soprattutto i cani che presentano due tipi di pelo, quindi col sottopelo. A volte uno mi dice, ma come faccio a tenere il cane nel fondo e nella spazzola? Bisognerà, ogni tanto rispondo, bisognerà essere dei polipi, no? Perché serve, manca la terza mano. Allora, o lo si tiene sotto il braccio, che può essere semplice per tutti, o il destro o il sinistro, in base perché molte persone preferiscono tenere il cane con la destra perché hanno più preso i mancini o asciugare, piuttosto che tenete il cane sotto la pancia e quindi utilizzate questo metodo, vi stancherete il braccio e la spalla, non è un problema, l'importante è che il cane sia in sicurezza, tanto non è una procedura che va eseguita tutti i giorni, va a necessità quando il cane sporco si lava. Per quello che riguarda le zampette, ad esempio, se vogliamo fonarle quando sono il cucciolo, vabbè, non ci mettiamo, non ci cimentiamo a volumizzarle, a fonarle all'insù, però sono tutte cose che possono essere insegnate al cucciolo già dalle prime volte. Per la testa, ad esempio, io metto molto l'aria dall'alto all'inizio, così non hanno contro il naso l'aria e non ce l'hanno diretta sulle orecchie e inizio a asciugare. Si può finire anche con un fon, ma in questo caso quando lo si fa frontale, molta distanza e l'aria tendente al freddo, perché comunque l'aria calda sul naso dà molto fastidio. Le zampe vanno completamente asciugate, cioè il corpo deve essere tutto bello asciutto? Il cucciolo deve essere asciugato al 100% bene, perché il cucciolo non ha le difese immunitarie ancora alte, anche se ha i vaccini, rimanere bagnato nel periodo invernale soprattutto gli può causare problemi. Però non solo il cucciolo, ricordiamoci che i cani possono poi avere problemi articolari, ci sono tantissimi cani, rimanere bagnati è un po' come l'essere umano, quando non ci asciughiamo i capelli, poi diciamo oddio male alla cervicale, perché la sera prima non è stato pigro, è fondamentale asciugarli. E uno mi dice ma quando vado nei campi si butta nel fiume da solo, è diverso. Quando il cane spesso si butta nel fiume, in realtà loro hanno una sorta di film sul pelo e quando noi li andiamo a toccare, sono bagnati spesso in superficie, sotto no, quando noi li andiamo a lavare, andiamo a lavare e bypassiamo questo strato, noi andiamo in modo più profondo verso la cute, quindi li dobbiamo asciugare. Allora, abbiamo visto il bagnetto, come spazzolare invece senza creare fastidio all'animale? Come può essere il momento della spazzola, quasi una coccola? Allora, intanto abituiamo il nostro cane a essere spazzolato anche due minuti quotidianamente all'inizio. Non deve essere un periodo molto lungo perché il cucciolo non ha la pazienza, il cucciolo si annoia, si stufa e inizia a voler giocare. Al rientro della passeggiata andiamo incontro all'estate, Natalie. Il momento della passeggiata è fondamentale anche per verificare che nessun parassita sia salito sul pelo del nostro cane. Quindi, sempre chiediamo a Blanca se può dormire dopo, le spazzole. Fondamentale l'acquisto delle spazzole. Comprate delle spazzole sempre da professionisti che non graffino la cute del cane. Ci sono spazzole e mi dicono, ah ma gli stessi dentini è sempre di ferro. Non sono uguali. Questa non graffia. Ci sono spazzole che se io dovessi fare questa cosa sulla mia mano mi graffierei. E la mia mano ha una pelle molto più dura della pelle del cane perché noi non abbiamo il pelo. Il palmo della mia mano sicuramente ha una pellaccia, definiamola così, rispetto alla cute del cane che è molto più morbida, è molto più delicata in quanto hanno il pelo in copertura. Non hanno la necessità di una pelle così forte. Quindi attenzione al tipo di strumenti, ai pettini e alle spazzole che devono non ferire l'animale. Quindi fatevi consigliare da un professionista. Tanto con un cane una spazzola professionale mi dura tutti i 15 anni del cane. Non serve averne due, ne basta una corretta. Quando andiamo a spazzolare il nostro cucciolo. Non partiamo sempre mai da... Tanta ha molto sonno. Sì, sì, no. È strano perché in realtà è una monellissima. Vedete che l'ambiente, le luci... È rilassata. È rilassata. Andiamo a spazzolare. Non facciamo questo movimento perché questo movimento porta a graffiare il cane. È un movimento di polso molto delicato. e andiamo a spazzolare il cane. A molti non viene questo movimento naturale. Ovvio che non lo sia perché tutti sono abituati, iniziano a spazzolare così. Assolutamente non vado a graffiare la cute del cane. Devo mantenere questo movimento molto delicato. Se incontrerò dei nodi con queste spazzole non verranno via in una volta sola. Allora magari ripasso due o tre volte e il nodo verrà via. Anche perché un cane che viene spazzolato quotidianamente non ha mai delle grandi... Può essere che rientriamo dal giardino, dai campi, può esserci il nodino perché c'è il fiorellino, si è attaccato l'erbetta, giocando tra di loro... Insomma, ci sono creati però niente di trascendentale. Per le zampine insegnate ai vostri cani a far alzare le zampe. Adesso perché lo vedete che lei ha quasi quattro mesi, lo fa anche se vedete che sta tirando leggermente indietro. Non è una cosa semplice, non è una cosa banale. La maggior parte dei cani, quando noi gli alziamo una zampa, la prima cosa che fanno è ritrarsi, vedete? Perdono l'equilibrio, il discorso di prima. Io se voglio scappare mi stai tenendo una zampa, non posso scappare, terribile, no? Pensiamo in natura, divento preda di qualcuno perché non posso scappare. Quindi quando noi insegniamo le cose, insegniamole perché hanno una logica. Ecco, una persona che è stata qua in studio da noi ricordava l'importanza della manipolazione nel cucciolo. Raccontava proprio che alcuni cani a bollino rosso, come ne parlavamo prima, se si dovesse andare a ritroso nella loro vita, sì, tanti di questi cani, la maggior parte, non sono mai stati manipolati dal proprietario, quindi non hanno questa capacità di, come posso dire, subire, passami il termine, la manipolazione da parte di un uomo, che all'inizio può essere diciamo un momento di stress, ma poi nel tempo ovviamente l'animale si abitua ed accetta e questo momento diventa anche piacevole. È molto importante, da qui parte il lavoro, se siamo fortunati che sono cani di razza dell'allevatore, se sono cani di canile è un pochino più complicata la situazione, però i cuccioli andrebbero manipolati già dall'allevatore dal primo giorno di nascita e non è un lavoro, vanno toccati, vanno accarezzati, vanno toccate le zampette, vanno stimolati, questa cosa è fondamentale perché loro imparano proprio la manipolazione da parte dell'essere umano e bisogna proseguire con esercizi sempre un filo più impegnativi intanto che il cucciolo cresce. È molto importante quindi la manipolazione della zampa, della testa, toccare le orecchie, aprire la bocca perché nell'igiene del cucciolo non ci dimentichiamo lavare i denti, al giorno d'oggi si lavano i denti dei cani, ma se il nostro can non si fa aprire la bocca come tanti cani perché dicono oddio mi sta alzando il labbro, cosa mi vorrà fare mai? Il cane ha paura, non è abituato, quando il cane ha paura di una cosa è perché non la conosce, se il cane conosce una cosa o ne ha paura perché non gli è piaciuta o si lascia fare, sempre con estrema dolcezza, quindi al cucciolo si insegnerà fin da piccolo quando i dentini non ci sono ancora ad aprire la boccuccia, ad aprire, grazie Blanca, vedete che è bravissima, si fa, lei chiaro sarà, si spera un cane da esposizione quindi queste cose dovrà farle fare anche dai giudici, ma non importa perché quando vado a lavare i dentini dei miei cani con il dentifricio, io non uso, si può usare lo spazzolino, si può usare il dito con intorno una garza sterile, io uso il dito con la garza sterile perché mi sembra di fare più aderenza, è una mia scelta e poi perché poi la butto via, non mi piace rimanere con spazzolini sporchi. Vado, vado a mettere il prodotto, adesso lei ovviamente ha ancora i denti da latte, tra un paio di settimane inizieremo a cambiare i dentini, non è fondamentale ma lo stesso lo stiamo facendo una volta alla settimana solo per abitudine e anche a casa fatelo, perché quando il veterinario il cane avrà male al dente e non si vorrà far alzare il labbro, se un cane si fa manipolare non serve addormentarlo. Giustissimo, ti ringrazio intanto per questa prima parte dedicata alla toilettatura nel cucciolo, alle prime attenzioni da parte del proprietario, adesso ci lasciamo per qualche minuto per la pausa pubblicitaria, torneremo in studio parlando con Edgar Meyer di questo importantissimo servizio che è Gaia Lex e tantissimi altri argomenti. Bentornati qui con noi in studio, nell'ultima parte della trasmissione, la prossima ci dedicheremo ancora ovviamente alla toilettatura, andremo su un pelo un po' più difficile, un pelo lungo e poi dobbiamo ancora parlare Francesca delle unghie, degli occhietti, insomma c'è ancora tanto da raccontare ai nostri telespettatori. Edgar, vengo a te, Edgar Meyer che è presidente di Gaia Animali e Ambiente, questa bellissima associazione che da tempo si batte per i diritti animali. Allora avete questo sportello Gaia Lex di cui abbiamo parlato prima, questo pool di avvocati che voi, questa rete che avete creato, una rete importantissima per aiutare i cittadini e non solo perché questi avvocati sostengono anche la vostra associazione, il vostro che avete operato, le vostre battaglie. Questi avvocati che, come posso dire, si muovono tra tante tematiche che sono all'ordine del giorno. Abbiamo visto un po' il discorso del cane cabaia, abbiamo visto il video che sta facendo adesso il giro del web di questo cane che è stato picchiato da un addestratore durante una seduta, un cane a quanto pare a bollino rosso. Adesso però veniamo alle colonie feline, perché le colonie feline sono davvero molto tutelate, eppure ancora poco si sa di quanto siano veramente tutelate dalla legislazione queste colonie feline di gatti ovviamente randaggi. Parliamo un po' di queste colonie che ce ne sono sempre di più, ci sono sempre più volontari che si occupano, anche cittadini che si occupano di far riconoscere queste colonie, perché è molto importante anche farle riconoscere per dare un'identità e una protezione alla colonia, Edgar. Sì, hai detto bene. Allora, intanto i gatti liberi, quelli che un tempo si chiamavano gatti randaggi, oggi si usa più il termine gatti liberi, però alla fine quelli sono, sono tutelati, sono tutelati dalle leggi dello Stato italiano e sono tutelati dalle maggiori leggi regionali, in più anche da molti regolamenti comunali, quindi sono tutelatissimi, cioè non si possono ovviamente uccidere, non si possono maltrattare, ma non si possono neanche spostare teoricamente le colonie feline, se non per il loro benessere, cioè tipo se c'è un cantiere, se si deve costruire una casa o si deve ristrutturare una cascina, un edificio e insiste una colonia felina lì in zona, molti regolamenti comunali prevedono che la ditta che deve fare i lavori insieme al comune e insieme ai tutor di colonia felina, io li chiamo tutor di colonia felina, però sono stato il responsabile della delega al benessere animale di Roma Capitale e nel nuovo regolamento che io stavo scrivendo e che dovrebbe essere approvato a breve, scrivevo tutor di colonia felina, le gattare, i gattari mi hanno detto no a Roma c'è da chiamare gattari, noi vogliamo che sia scritto anche nel regolamento, però vabbè chiamiamoli tutor di colonia felina, allora se vanno spostate le colonie feline perché appunto c'è un intervento, deve essere concordato tra l'azienda, il comune e il tutor di colonia felina per lo spostamento. Non è che uno si può svegliare una mattina e direi gatti mi dà fastidio, spostali, assolutamente no, c'è tutta una procedura e bisogna anche valutare se è davvero così fondamentale spostare questa colonia perché ricordiamolo che spostare una colonia non è proprio così facile. Eh no appunto è abbastanza complesso e comunque deve essere fatto d'accordo tra la ditta, i tutor e il comune perché se no li devi lasciare lì, a meno che, altro caso, non ci siano gravi inconvenienti igienico-sanitari che però stabilisce la ASL, non è che arriva l'amministratore di condominio o un condomino e dice qui ci sono gravi inconvenienti igienico-sanitari. Ecco tu hai vissuto a Roma, hai vissuto l'area di Roma, ci ne sono tantissimi di gatti, ci sono tantissime colonie, sono anche un po' il simbolo della città questi gatti perché fortunatamente in alcuni quartieri li vedi che sono lì belli pasciuti, sono belli cicciotti, sono un po' i re e le regine della città, vengono anche molto amati anche dalla gente, dai turisti fanno delle fotografie. Purtroppo non è sempre così perché in alcuni casi i gatti vengono ancora visti come animali che fanno la pipì, che danno fastidio e che devono essere allontanati. Ricordiamoci che questi gatti non sono caduti magicamente dal cielo, molto probabilmente questi erano gatti di proprietà che poi sono stati lasciati vagare o addirittura abbandonati, non sterilizzati né castrati e quindi dopo da lì succede il disastro. Edgar tu hai parlato proprio prima di controllo della, come posso dire, delle nascite nelle colonie feline, quanto è importante sterilizzare e tenere sotto controllo le nascite dei gatti? È fondamentale perché è chiaro che se noi lasciamo i gatti liberi e liberi anche di riprodursi in maniera incontrollata, inevitabilmente nasceranno tante cucciolate e molto spesso, lo sappiamo per esperienza, questi cuccioli fanno una brutta fine o finiscono sotto le macchine o vengono uccisi dalle persone, addirittura ancora in campagna, adesso in Lombardia sempre di meno, però nelle campagne vengono addirittura annegati i gatti appena nati. Allora piuttosto che quello meglio sterilizzare i gatti e evitare che ne nascano continuamente. E manteniamo la colonia feline costante, quindi assolutamente sotto controllo, una colonia feline di dieci gatti non disturba nessuno, soprattutto se è gestita appunto in maniera corretta. Hai detto bene, a Roma sono patrimonio bioculturale della città i gatti, ci sono delle colonie feline assolutamente straordinarie, conosciute in tutto il mondo, da Romeo, Ermeio, Gatto del Colosseo, ma poi ci sono delle colonie feline, proprio quelle degli fori imperiali che sono conosciute in tutto il mondo. Ma anche a Milano i gatti del Castello Sforzesco sono fotografatissimi dai turisti, soprattutto quelli nord europei. Uno dice andiamo al Castello Sforzesco, io ho visto stesso dei miei parenti che poi alla fine fotografavano i gatti, ma perché sono un'attrazione anche loro? Però sono tutelati e vanno costantemente tutelati, quindi va ricordato. Come GAI Animali e Ambiente noi abbiamo proprio un cartello che ovviamente inviamo gratuitamente a chiunque ce ne faccia richiesta, dove sono ricordate le leggi che tutelano appunto i gatti liberi, i gatti di colonia felina. Importante però che siano sterilizzati. Allora veniamo a una cagnolina che sta cercando ancora adozione, l'avevamo già mostrata all'interno della trasmissione, però fortunatamente tanti hanno trovato famiglia, lei sta ancora aspettando. Ce ne parli che poi guardiamo il video? Guarda, tutti i cani che noi abbiamo mostrato qui a Telecolor della campagna Apri il Cancello, hashtag Apri il Cancello, sono stati adottati anche grazie a Telecolor. Tranne Regina, Regina è lei che vediamo, lei è uno dei protetti appunto di GAI Animali e Ambiente e diamoci la zampa. Sta a Arzagodadda che è un rifugio in provincia di Bergamo e è l'unica che non ha ancora trovato casa. Arriva dal sud la maggior parte dei cani ormai che gestiamo come GAI Animali e Ambiente e diamoci la zampa e arriva dal sud. Perché fortunatamente diciamo che in Lombardia il problema del randagismo l'abbiamo fondamentalmente risolto, anche gli abbandoni sono drasticamente diminuiti rispetto a quando ho iniziato a fare volontariato io ormai ahimè 30 anni fa. E quindi ce l'abbiamo meno questo problema e allora oggi i volontari del nord aiutano i volontari del sud che invece stanno in situazioni disperate ancora purtroppo. Regina arriva da Canicatì, infatti noi la chiamiamo la Regina del sud, arriva da Canicatì in Sicilia dove era una randagia come tanti altri e rischiava ogni giorno, rischiava di finire sotto le macchine, rischiava avvelenamenti, rischiava maltrattamenti. Perché non riesce a trovare adozione? Non lo so, noi l'abbiamo portata qui da noi in rifugio perché diciamo le diamo un futuro migliore e invece è ancora lì che aspetta in rifugio, non va bene, facciamo vedere il suo video. È da quasi un anno che Regina sta in rifugio e non è giusto perché lei è un cane simpaticissimo, ama le coccole, certo magari con gli altri cani femmina soprattutto magari bisogna fare un po' di attenzione, bisogna avere anche un po' di polso, non sempre le vanno a genio i cani femmina però insomma è un cane che con un minimo... Noi le persone che vogliono venire da noi in rifugio per adottare per esempio Regina, le facciamo fare un percorso ovviamente, non è che la impacchettiamo e la diamo in adozione, ecco tenetela, le si fa fare un percorso perché si vuole conoscere la famiglia e quindi si fa fare anche il percorso di conoscenza di tutti quegli aspetti del suo carattere che possono emergere. Uno di questi l'abbiamo visto appunto il rapporto con i cani femmina che non sempre, non con tutti, non sono idiliaci e però dai guardiamoci il video. La conosciamo? Sì. Quando esco dal box sono una ragazza felice, sono una curiosona, ho quattro anni e mi chiamo Regina, la Regina del Sud. Da due anni mi trovo qui ma sono nata a Canicattì, ero troppo buona e fiduciosa per la vita di strada, così più volte mi sono trovata in serio pericolo di vita. Amo la libertà, sono socievole e intraprendente, ho tanti amici e vado letteralmente pazza per le coccole. Mi piacciono molto i bambini, insomma adoro il contatto umano, ma spesso mi chiedo meglio una gabbia o la strada? Tutte le sere il box si chiude e io esprimo un desiderio ma non te lo posso raccontare, altrimenti poi non si avvera. Forza Regina, speriamo che trovi davvero una famiglia il prima possibile Edgar. Allora per contattarci, chiunque fosse interessato a Regina basta andare sul sito gaiaitalia.it, lì c'è le modalità per scriverci, ci scrivete una mail e vi facciamo venire in rifugio e poi appunto facciamo tutta l'operazione di conoscenza con Regina. Noi veramente non ci capacitiamo e quindi vogliamo trovare casa anche a Regina. Deve trovare. Allora per concludere il discorso adozioni, chi non avesse la possibilità o il tempo di portarsi a casa un animale, che io rispetto tantissimo, chi ama gli animali però dice purtroppo non ho le condizioni, sono solo, sono spesso fuori per lavoro e decide di non portarsi a casa un animale per puro egoismo perché questo animale sicuramente solo tutto il giorno soffrirebbe. C'è la possibilità però di aiutare questa associazione, questi cani adottando a distanza. Cosa significa? Ma l'adozione a distanza appunto è un aiuto, è un aiuto per noi come Gaia Animali Ambiente o qualunque altra associazione perché è un aiuto economico. Cioè si tratta di un versamento mensile che poi insomma noi non è che mandiamo la polizia se uno non lo fa mensilmente, si dimentica, avrà un mese o due. Comunque insomma è un piccolo versamento, sono 16 euro al mese, col quale si appunto adotta a distanza un cane che si sceglie. Qui vediamo Danco, può essere Regina, qualunque altro dei nostri ospiti di Gaia o di Diamoci la Zampa. E così in cambio di questo aiuto si riceve l'attestato di adozione a distanza con la foto del protetto che si è scelto. È molto carino, noi lo spediamo a casa e ci sono delle persone che se lo attaccano in cameretta piuttosto che in bagno. Insomma così hanno sempre la foto del loro protetto con l'attestato di adozione a distanza e poi noi ovviamente periodicamente informiamo l'adottante a distanza sulle condizioni, se è stato adottato eccetera. Esatto, sui progresso, insomma che cosa ha fatto questa settimana, questo mese, soprattutto se è stato adottato ovviamente chiediamo o di chiudere l'adozione a distanza oppure di adottare a distanza un altro cane, insomma uno è liberissimo di fare quello che vuole. Edgar, veniamo ad un altro argomento molto molto importante. Caccia e bracconaggio. Purtroppo nel nostro paese ovviamente è ancora possibile cacciare gli animali, ci sono animali che però vengono cacciati in una maniera spietata e qua veniamo a un'altra parte che è il bracconaggio, specie protette che vengono cacciate o metodi di cattura di questi animali che sono a dir poco tremendi, non che lo sparo con un fucile sia tanto più piacevole per l'animale. Come vi state muovendo voi di Gaia Animali e Ambiente? Allora, posto che ovviamente noi come associazione siamo per l'abolizione della caccia, ma in Italia la caccia è consentita da una normativa che è la legge 157 del 92 e quindi è regolamentata. Il tema è, soprattutto in questi ultimi giorni, che la Lombardia è balzata alle cronache nazionali e anche internazionali per appunto il bracconaggio che è invece quella caccia che è esercitata fuori dalle leggi, cioè in maniera illegale. Il Guardian, uno dei più importanti quotidiani internazionali, ha pubblicato recentemente in prima pagina una inchiesta dove si dice che la Lombardia è il territorio in Europa dove c'è maggior bracconaggio, di tutta Europa. Guardian dice in Lombardia si uccidono ogni anno illegalmente 5,6 milioni di uccelli, cioè quasi 6 milioni di uccelli che in un solo anno vengono uccisi illegalmente in Lombardia. Pazzesco, dice sempre Guardian, nel bacino del Mediterraneo siamo secondi soltanto all'Egitto, uccidiamo illegalmente più uccelli del Libano, tanto per fare degli esempi. Allora siamo finiti, non soltanto sul Guardian ma anche sul New York Times, per questo bel primato noi lombardi. Io da lombardo mi sento offeso da questo fatto, finire, essere conosciuto a livello internazionale per essere quasi degli uomini di Neandertal. Tutto questo per colpa di una piccolissima frangia di cacciatori e di bracconieri. Trovo che sia abbastanza vergognoso di questa cosa, ma soprattutto sempre in queste settimane ci sono delle proposte di legge in Regione Lombardia da parte di alcuni consiglieri regionali che hanno chiesto di cacciare in deroga, quindi in deroga alle normative internazionali europee e alle normative nazionali, alcuni uccelli come il fringuello, come il cardellino, che sono piccoli uccelli canori, veramente piccolissimi. Clamoroso, fortunatamente è stato sventato questo tentativo da parte di alcuni consiglieri regionali, lo devo dire leghisti, e quindi questo almeno l'abbiamo sventato. Ma c'è un'altra cosa della Regione Lombardia che ci fa abbastanza arrabbiare come associazione, è della caccia sui valichi. Appunto, la maggior parte di questi uccelli che vengono uccisi, vengono uccisi, qui stiamo a vedere qualche immagine, questo è uno dei valichi nel Bresciano. Allora, la normativa italiana e le normative europee dicono che la caccia a mille metri dai valichi montani non si può fare. Perché? Perché passano gli uccelli migratori, uccelli migratori che fanno dei viaggi clamorosi di migliaia di chilometri, arrivano stremati da noi e quindi si avvicina ai valichi, si abbassano, proprio perché è più semplice per loro fare gli attraversamenti. Esattamente, che ha ferito e poi lo sbatte. Guardate che trogloditi, cioè non lo so se ci sono parole, che sparano a degli uccellini in migrazione. Pensiamo alla fatica che fanno questi animali e vengono abbattuti nei loro punti di migrazione che è come una trappola perché lo sanno che le tratte vengono fatte in un determinato periodo in un determinato posto. E che nei valichi appunto si abbassano perché con i venti insomma hanno tutta una serie di questioni di volo e il volo è più facile. A mille metri dai valichi è vietato e la Lombardia dovrebbe recepire la normativa nazionale. In Lombardia abbiamo 53 valichi montani interessati da rotte migratorie. La Lombardia dovrebbe tutelarli, rigorosamente e controllarli. Non viene fatto, soltanto su 17 viene fatto e succede questa roba qui allucinante. C'è una sentenza del TAR regionale che obbliga la Lombardia a tutelare i valichi e insomma la Lombardia diciamo che fa melina su questa cosa qua. Ma cosa ci fanno poi con questi uccelli? Se li mangiano? Se li mangeranno? Peccato che sia vietato perché appunto a determinati migratori e soprattutto sui valichi non si può fare. Pensa che New York Times appunto scriveva recentemente una vergogna veramente per tutti noi. Cosa è successo nella comunità montana di Brescia? Cioè nell'istituzione comunità montana? In una sala della comunità montana di Brescia c'è stato un ricevimento recentemente settimana scorsa del dipartimento Caccia e Pesca quindi erano presenti i dipendenti del dipartimento Caccia e Pesca un ricevimento dove si mangiava insomma e erano presenti degli spiedi di uccelli cacciati illegamente quindi bracconati con funzionari della comunità montana presenti. Una figura pazzesca per l'illegalità palese che è entrata addirittura dentro l'istituzione con una figuraccia ovviamente il presidente della comunità montana di Brescia si è scusato e adesso ci sono alcuni funzionari sotto inchiesta. Però insomma siamo un pochettino a questi livelli e allora noi siamo molto arrabbiati. GAI Animalimenti insieme a altre 15 associazioni animaliste e ambientaliste sta facendo pressione sulla regione affinché appunto non passi la caccia in deroga affinché passi la tutela finalmente dei valichi in regione Lombardia. Poi vorrei anche parlare un attimo insieme a te della caccia perché si dice che i cacciatori tengano sotto controllo questi numeri di animali, i cinghiali, i lepri, i mini lepri. Ma chi è che li ha messi? Perché dai, adesso non siamo tutti idioti. Chi ha messo tutti questi animali che ogni anno vengono riliberati? E anche questa caccia ad esempio sul cinghiale? Dicono, adesso non sono io a dirlo, ma ho avuto delle persone anche molto competenti in materia che se uno spara a caso a un cinghiale e magari è un membro che ha un determinato ruolo nel gruppo qua il gruppo si sfalda, il branco, e quindi vanno a esserci numerose nascite. Esattamente così. Succede lo sbrancamento dei branchi di cinghiali soprattutto se appunto è il capobranco, molto spesso è soltanto il capobranco femmina. È matriarcale, no? È matriarcale. Esattamente, esattamente. Quindi se viene uccisa la matriarca c'è lo sbrancamento e la creazione di nuovi branchi e quindi anche altre femmine diventano fertili per cui si hanno molte più nascite. Quindi paradossalmente la caccia al cinghiale non ferma il numero di individui che sono presenti sul territorio ma lo aumenta e del resto il fallimento di questo metodo di controllo demografico dei cinghiali lo vediamo nei fatti. Cioè i cinghiali stanno aumentando nonostante siano 20 anni che vengono abbattuti. Parliamo anche dei fagiani, adesso io abito in campagna e li vedo questi fagiani, sono un po' rimbambiti praticamente non hanno neanche paura dell'uomo perché vengono cresciuti dall'uomo poi vengono riliberati in un determinato periodo e poi via la caccia. Cioè non hanno neanche paura dell'uomo, sono stati cresciuti fino al giorno prima gli dava da mangiare il giorno dopo devono diciamo sfuggire al cane, al fucile. Cioè cosa sanno fare questi animali? Sono polli d'allevamento e quindi non conoscono i pericoli, non sanno difendersi però evidentemente per alcuni cacciatori è divertente perché sfuggono meno velocemente e quindi è più facile impallinarli e quindi c'è ogni anno, ma questo è consentito dalle normative che noi contestiamo ovviamente, ci sono continue reimmissioni sul territorio da parte dei cacciatori che poi si spacciano per ambientalisti proprio perché rimettono animali sul territorio per spararli. È una simpatica, anzi poco simpatica favola quella dei cacciatori che si spacciano per ambientalisti e conoscitori del territorio ma anche perché ormai i ricercatori hanno spiegato e stanno spiegando con dovizia di dati scientifici per l'appunto che in realtà come abbiamo visto nel caso dei cinghiali ma è anche il caso delle nutrie, la risposta di molti mammiferi è quella di aumentare la fertilità quindi aumentare la produzione di cuccioli per usare un termine brutto per cui sparare e uccidere produce come effetto quello di aumentare il numero di animali presenti sul territorio e quindi è sbagliata dal punto di vista non solo etico ma anche scientifico. Chiudo il quadro cacciatori pensando ai cani dei cacciatori, che ne abbiamo quanti nei canili? Beh guarda io sono... Che gravano se dobbiamo metterla sotto questo aspetto, a me dispiace ovviamente per il cane però questi animali gravano sulle tasche degli altri cittadini, cani palesemente di cacciatori. Io ho adottato proprio recentemente un cane da caccia che anche quello arrivava dal sud, dalla Calabria nel nostro rifugio, piangeva disperatamente di notte, ululava, quindi alla fine non ce l'ho fatta me la sono portata a casa, un cane da caccia traumatizzatissima perché poi molto spesso vengono tenuti anche in situazioni che veramente fanno accapponare alla pelle e certo i cani da caccia che non dimostrano di avere quelle qualità che il cacciatore vuole, molto spesso purtroppo vengono abbandonati. Il cane da caccia che ho io è un cane di razza che arriva da un allevamento però ahimè l'allevatore in quel caso non l'aveva microcippato e chi l'ha acquistato quindi presumibilmente il cacciatore non l'aveva microcippato, quindi è arrivato in rifugio non microcippata, abbiamo microcippato noi e adesso è mia, però c'è tantissimo questo problema i cacciatori molto spesso non microcippano i cani perché così hanno la possibilità di abbandonarli o di passarseli, insomma un po' di tutto. Per non parlare anche della prepotenza, della prepotenza quando ti vengono a sparare dietro casa, quando in realtà andrebbero mantenuti delle distanze eppure allora tutto è concesso, chiudo perché sennò sono troppo polemica, pausa pubblicitaria Bentornati qui con noi, ultima parte della trasmissione, come sapete siamo adesso sul palco e parliamo di nuovo di toilettatura, in questo caso parliamo di un pelo lungo quindi un pochino più complicato. Ricordo che qui con me c'è Francesca Larghi che è vicepresidente della Federazione Nazionale Toilettatori e Alessio Trovato che è consigliere regionale per la Lombardia della Federazione Nazionale Toilettatori allora Alessio, lei non è tua? No. E questo appunto ci sarà anche come esempio per far capire che magari un cane, come in questo caso mi ha raccontato, è stata una cagnolina recuperata, giusto? Sì. Quindi magari non abituata ad una cura del pelo meticolosa è stata piano piano da adulta abituata e non è sua, eppure qua abbiamo proprio la figura di un toilettatore che sa prendersi cura di un cane e di un'altra persona quindi qua abbiamo due case, ci spiegherà sia il privato proprietario come far a gestirla ma vedremo anche proprio un toilettatore non con un suo cane che riesce ovviamente perfettamente a gestirlo allora ti lascio la parola, qua abbiamo un pelo lungo, è una maltese Sì, lei è una maltesina, ha 5 anni, da me viene da 2 anni e mezzo quando l'hanno recuperata era totalmente rasata ai proprietari piace il pelo lungo e abbiamo trovato dei compromessi per poterla mantenere lunga senza fare estrema fatica perché comunque lei fa una vita attiva, nel senso loro hanno una carrozzeria per cui va anche in officina va in montagna ai weekend, per cui boschi, neve in inverno per cui abbiamo un po' di compromessi strategici per mantenerla lunga senza fatica Tra l'altro è super bianca Super bianca, lei viene in toilettatura da me ogni 15 giorni ma loro la lavano anche a casa la settimana che non la lavo io è bravissima, è diventata bravissima, tranquillissima come si è visto dorme, è dolcissima per cui non è neanche difficile da trattare ma è viziatella Ecco, a casa cosa consigli? Qua abbiamo dei proprietari veramente molto ligi al dovere che ogni 15 giorni vengono e te la portano quindi sicuramente massima cura del manto e della cute A casa un proprietario su un pelo di questo tipo, su un pelo lungo, cosa consigli? Allora, innanzitutto lei ovviamente avendo il pelo lungo per non farlo finire davanti agli occhi si fanno gli elastici sulla testa, è fondamentale cambiarli per toglierli ci sono delle forbicine apposta che qualunque toilettatore può recuperare al privato per far sì che si taglia l'elastico ma appunto non si va a tagliare anche il pelo nel contempo E ci sarà anche un modo immagino per mettere questo elastico perché se penso io magari quando tengo su l'elastico per tanto tempo può anche causarmi fastidio Stessa cosa può succedere invece a loro, anche più grave, che si può causare una lopecia Poi alla fine vedremo appunto il metodo in cui metterlo e controllare appunto che il pelo non sia troppo tirato e appunto puoi cambiarlo anche magari ogni due o tre giorni senza lasciarlo su per troppo tempo sul cane Lei appunto invece ha il musettino corto che questo invece aiuta i proprietari per quanto riguarda il mangiare e il bere Per cui si va a creare un taglio più picchiettino più simpatico ma pratico allo stesso tempo Perché invece diciamo in esposizione sarebbe anche davanti tutta lunga Davanti tutta lunga, ai lati molto più lunga Sotto il pancino adesso noi andremo a rasarla ma in cane espositivo è totalmente lungo anche nella parte sotto e nella parte intima Che anche qui invece andiamo a tagliare Per questo è un taglio strategico che le zone nascoste le andiamo a rasare senza togliere l'eleganza e la bellezza che può avere un maltese È un taglio pratico Sì esatto Senza perdere le caratteristiche del pelo del maltese Esatto per cui è un giusto compromesso per non rischiare poi di ritrovarti il cane totalmente annodato Non pratico in caso devi mettere un impermeabile Soprattutto perché lei fa una vita anche abbastanza attiva insomma Non è soltanto un cane da divano No no loro l'hanno adottata ma appunto avevano anche un'altra cagnolina che si sono sempre portati dietro E si portano dietro sempre durante vacanze o escursioni Per cui però appunto volevano mantenere quella che è la natura del maltese Ti lascio lavorare allora che intanto ti seguiamo Adesso andiamo a sistemare un po' il musino Ecco sicuramente questa magari intanto commento con Francesca Questa è una parte che solitamente deve fare un toilettatore Non possiamo improvvisarci perché abbiamo visto ecco il macchinario anche vicino molto al naso Alle zampine bisogna stare attenti Questa è una parte che non va eseguita a casa Ci vogliono delle competenze Però volevamo far vedere come magari il pelo lungo può essere gestito a una media lunghezza E il cane fa una vita assolutamente normale Non è un cane tenuto sotto una teca Non è un cane assolutamente è curato bene Gestito bene fa una vita normale Alessio ha rasato la parte sotto il nasino Pesso andrà a creare il musino come definito oggi in Asian Style Che è corto e carino e quando il cane mangia per loro è più facile pulire solo il musetto Il pelo lungo diciamo la parte lunga del muso è di veramente difficile gestione per un proprietario di casa Quello che Alessio in realtà rasa su questa bellissima signorina è sotto i polpastrelli che si fa per tutti i cani Sempre per il discorso di prima Il cane non scivola su determinate pavimentazioni Eventuali insetti, parassiti, forasacchi E poi come stava spiegando va a rasare la parte vicino al posteriore per evitare residui di feci Comunque che è una cosa complicata il pelo lungo a volte veramente da questo punto di vista difficile In questo caso rasando quel punto e si vede non si vede non andiamo a rovinare l'estetica del cane Per un proprietario è più facile mantenere pulita la parte E raserà molto il pancino in modo che la parte estetica laterale, la frangia Sembra che il cane sia mantenuto totalmente lungo E la parte invece del pancino più difficile Hanno paura a pettinare per il maschietto per un motivo, per la femminuccia per non prendere dentro i capezzolini Hanno paura, molti proprietari che non sono così capaci E quindi rende di facile gestione l'animale Come vedete adesso lui con la tosatrice Utilizzerà una lunghezza, cioè una corta ma non eccessivamente corta Sempre per non andare a irritare la cute del cane Soprattutto se non è ancora abituato a una tosatura molto corta Francesca ogni quanto si deve portare, abbiamo sentito, si chiama questa cagnolina? Chira Chira ogni 15 giorni viene portata dal toilettatore Super giù ecco, dopo può capitare una settimana E poi anche soprattutto in questo periodo, adesso siamo in zona gialla Però in zona rossa, come noi abbiamo avuto difficoltà con il parrucchiere Sicuramente anche voi avrete sentito tantissimi clienti parecchi in difficoltà Soprattutto su casi di questo tipo Ma quanto consigli, ogni quanto è giusto portare il nostro cane a toilettatore? Immagino che sia anche in base un po' al manto, al pelo In base al manto, possiamo fare delle differenze tra razze Intanto che Alessio lavora Per canti a crescita continua Quindi Maltese, Sciizzo, altre razze Normalmente una volta al mese Se il proprietario proprio non riesce a gestire minimamente per il taglio, per il bagno Per verificare le orecchie Perché comunque tutti i cani che hanno le orecchie pendule hanno un rischio di cerume Le unghie, bravissimo Un'altra cosa importante che deve fare il toilettatore o il veterinario È il taglio delle unghie Perché le unghie Non improvvisiamoci a caso a tagliare le unghie No, adesso Alessio dopo lo farà Le unghie, soprattutto se di colore nero Noi non riusciamo a vedere dove termina l'avena Perché nelle unghie c'è una vena Quindi bisogna avere le competenze sia nel tagliare le unghie bianche Ma soprattutto le unghie nere Nell'unghia bianca si riesce a vedere Ma non è detto che la parte visiva dove io vedo il colore rosso Non è detto che l'avena termini esattamente in quel punto Può essere millimetricamente più in avanti Quindi vado a esagerare il taglio delle unghie E faccio male al mio cane Non è giusto Quindi bisogna avere anche delle competenze a questo punto di vista Con la molletta mi faccia morire No, perché comunque bisogna ricordarsi anche Mentre lo si lavora a casa o in tua dettatura Comunque dà fastidio il pelo davanti agli occhi E si sentono più tranquilli Avere oltre il tatto sempre Anche un contatto visivo Li rende molto più tranquilli Il laccetto ovviamente è sempre a portata Nel caso nostro Anche se l'è abituata Perché la sicurezza c'è È una cliente fidata insomma Sì, lei starebbe sul tavolo Guarderebbe ore senza alcun tipo di problema Ma comunque è sempre utile Come mantenere un pelo così bianco e candido Che immagino che sia la sfida più grande Per il proprietario medio Ecco, passatemi il termine Perché insomma tra il cibo e le passeggiate E un po' tutto quello che ci circonda Non è facile tenere il manto sempre super super bianco Allora sicuramente aiutano gli sciampi Ci sono degli sciampi specifici per il manto bianco Da utilizzare secondo me a seconda delle necessità Su di lei non viene mai utilizzato Né da me né a casa Perché appunto è un cane Innanzitutto è femmina ed è un vantaggio Per cui non rischia di avere le chiazze gialline Che possono avere i maschietti vicino alle zampe O sul pancino Ma appunto viene lavata spesso Perché comunque almeno una volta a settimana Anche i proprietari tendono a lavare e idratare il pelo Che nel caso del pelo lungo Come si diceva prima del balsamo È fondamentale Perché aiuta a prevenire i nodi E lo rinforza Perché comunque lei di base non viene quasi mai tagliata Ma arriva a un certo punto in cui si sfibra Per cui si spezza il pelo da solo Parassiti Qua apriamo una bella parentesi Visto che siamo in periodo Vedere un pelo del genere E pensare a pulcezzè Che mi viene un po' l'ansia Come fare a tenere sotto controllo il nostro cane E come prevenire anche l'infestazione? Sicuramente nei cani a pelo lungo o medio Comunque io consiglio anche I collarini sono da escludere Perché se no tutta la parte appunto del collo Il pelo si spezza Si diventa scurissimo Per cui quello Ecco collarini che negli Stati Uniti Alcune marche sono state bandite giusto? Si ne parlavamo prima con Francesca Sono stato fatto dal commercio Una marca di collarini Per reazioni allergiche eccessive A me non piacciono i collarini personalmente Ecco anche io ho sentito parecchi proprietari Che sia per collarini Che per la normale pipetta Che si utilizza O il boccone Quello che viene masticato Anche abbastanza piacevole per il cane Lo prendono così come un premietto Hanno portato a diversi problemi neurologici Quindi sicuramente Vanno dati Ma insomma con molta molta attenzione Stiamo attenti anche Agli effetti che possono dare sul nostro cane Cioè se notiamo che c'è qualcosa che non va Ecco magari pensiamoci bene A ridare una seconda somministrazione Il mese successivo Perché ho sentito veramente persone Che hanno riscontrato anche casi epilettici Molto gravi Ma proprio Questa primavera Con la prima infestazione Da zecchi e pulci Hanno fatto ricorso Questo In quel caso lì era un collarino Il cane è stato veramente malissimo Quasi in fin di vita Quindi ovviamente io non sono un veterinario Non sono nessuno Però siamo qua a parlarne È giusto fare informazione Fare attenzione La settimana scorsa ho avuto un cliente Con un bulldog francese Che è finita l'autodettatura Ha preso il collarino Antiparassitare in negozio E il giorno dopo è passato Che gli aveva messo il collarino E si era riempito di macchie Bolle successivamente E continuava comunque a avere problemi Vomitava L'ha tolto subito È andato dal veterinario Tutte le visite del caso Ed era un'intossicazione Sì Lei tipo utilizza l'olio di neem Ecco benissimo Infatti olio di neem Olio di neem Che è naturale Non dovrebbe ovviamente dare Odore e problemi L'olio di neem purtroppo Ha una piccola pecca Che non tutti sopportano L'odore dell'olio di neem E ovviamente Soprattutto per chi ha un cane Magari lo fa salire anche sul letto Sul divano Comunque se lo tiene a stretto contatto Se questo odore dà fastidio Perché non è super piacevole Devo dire la verità Può dare fastidio Hai avuto un'idea Veramente secondo me Geniale Io ringrazio la mia farmacista Che ovviamente Il mio farmacista è un allevatore Tra l'altro di cani Quindi è una persona molto esperta Mi fa Ordino da loro L'olio di neem Quindi naturale Mi preparano E aggiungendo degli oli essenziali Con delle perfumazioni Che io gradisco Che non coprono al 100% Ma alleviano molto Il cattivo odore Dell'olio neem Che a me personalmente Non piace Ma lo ritengo molto utile E quindi Mi faccio fare questi preparati Spendo anche molto meno Di altri prodotti A base di olio di neem Già in commercio E la concentrazione Di olio di neem È più È elevata C'è una minore quantità Di acqua Quindi il prodotto È molto più efficace E mi aiuta Insomma A avere un odore gradevole Sul cane Io uso anche Antiparassitari Classici Se vogliamo Però negli anni Ho fatto Una selazione Molto importante Nata lì Proprio perché Io personalmente Ho avuto delle reazioni Avversi a causa di un principio attivo Contenuti in alcuni Antiparassitari Stiamo vedendo Che sta Le ha messo Un fiocchetto Sì Ho fatto Gli elastici Come dicevamo prima Che bisogna stare Molto attenti Certo Una volta che ho fatto Posizioni Gli elastici Innanzitutto Non bisogna prendere Una zona troppo ampia In un unico elastico Piuttosto come è fatto Nel suo caso Due sezioni Di elastici Uno davanti E una più centrale Poi unite dal fiocchettino Quando appunto Si prende Con un semplice pettine Che può essere questo O anche quelli di plastica Classici Che si trovano Ovunque Si va all'interno Dell'elastico stesso E si danno Dei piccoli colpetti Verso l'alto Per ammorbidire Per ammorbidire E farsi Che siano sicuri Che nessuna parte All'interno Dell'elastico Tiri troppo Perché appunto Se no si rischia che poi Si creano all'interno Zone di lopecia Per cui È dolore comunque Per il cane Che sennò poi Non si abitua E appena finisci Prova a togliersi Ecco Su un malteso Comunque su un cane A pelo così lungo Anche in costante crescita Come avete definito Voi So capito bene Quando iniziare a mettere I primi elastici Io Ai clienti Che magari Acquistano maltesi Appunto Di tre mesi I primi Anche quando hanno Pochissimo pelo Consiglio di iniziare A metterli subito Anche non davanti agli occhi Ma nelle parti Più vicino alle orecchie Per abituare il cane Alla presenza Di un elastico Perché se no Subito Si strusciano Giustamente E se già Dall'inizio Gli danno fastidio Magari metterglielo Prima di andare In passeggiata In modo che comunque Il cane poi è distratto Durante la passeggiata E man mano Non si rende più conto Di avere in testa L'elastichino O le mollettine Poi ci sono Tantissimi sfizi Che si possono mettere Si può giocare Con vari fiocchettini La proprietaria Gli piacciono Più sono eccessivi Meglio è Infatti oggi È iper eccessivo Ma Lei lo sa portare Con eleganza Assolutamente sì Allora Siamo quasi alla fine Dobbiamo aggiungere qualcosa Francia abbiamo dimenticato La pulizia degli occhi La pulizia degli occhi Bravissima Tanto che adesso Termina il musetto Intanto ci raggiunge anche Edgar Con calma Tranquillo Piano piano Che noi siamo qua E ti aspettiamo Come noi ci vediamo la faccia Al mattino Spesso i cagnolini Hanno delle leggere secrezioni All'angolo degli occhi Ovviamente nei cani Di colore bianco La cosa può essere più evidente Ma in realtà Hanno tutti i cani Quindi quello che posso consigliare È di utilizzare dei prodotti specifici Ma il cotone Sempre per i residui Di cui parlavo prima Che posso affrontare Quindi garzastelire Piuttosto che anche Un asciugamano In microfibra morbido E andare a pulire Giornalmente Una procedura che porta via 30-40 secondi E andiamo a pulire Gli occhietti Se non avete dei prodotti specifici Non avete fatto in tempo A comprarli Qualsiasi motivazione Ad esempio io Sui miei utilizzo La camomilla Preparo una camomilla Concentrata Naturale La conservo in frigorifero Perché non va utilizzata A calda ovviamente E la utilizzo E la camomilla Ha un forte potere sbiancante Quindi sui cani bianchi Quando mi chiedono Ma che cosa funziona La camomilla Non ingiallisce Come molti credono Ma in realtà Va a sbiancare La lacrimazione È anche molto utile Mi dicevano In casi anche di Come posso dire Quando hanno qualche fastidio All'occhio È lenitiva È lenitiva Esatto È lenitiva È una cosa naturale Io tendenzialmente Se posso utilizzare Prodotti naturali Preferisco Allora Siamo proprio alla fine Io Cogliendo l'occasione Di vedere anche Chi era qua Guardate com'è bella Con questo fiocchettino In testa È meravigliosa Però Anche un cane Di questo tipo Che sembra veramente Una bambolina È un cane Che fa una vita bellissima Nel senso che I suoi proprietari Le danno anche La possibilità Di sporcarsi Di fare il cane Di girare E camminare Perché purtroppo La maggior parte Di questi cani Soprattutto quando Sono così piccoli Vengono tenuti Proprio come oggetti Come bambolotti E ricordiamoci Che sono cani Che amano anche loro Ogni tanto Sporcarsi Rotolarsi So che sicuramente Una rotolata Devo dire Che sono anche Abbastanza schizzinosi Quando hanno il pelo Così Schizzinosa Non vanno magari Proprio a rotolarsi Nel fango Però se anche Dovesse capitare Permettiamoglielo E quando Ovviamente negli anni Siamo diventati amici Con i proprietari E se viene a casa mia Io cani Di taglia Medio grande Giocano in giardino E lei in mezzo Che ha un piacere Poi ripeto Un bagnetto E tutto passa Benissimo Complimenti Ai proprietari Di Chira Perché davvero È tenuta Molto molto bene Ma allo stesso tempo Le permettono Di fare la sua vita E di divertirsi Edgar Prima di lasciarci Ricordiamo Il 5x1000 Da devolvere Alla vostra associazione 5x1000 È un'iniziativa Bellissima Indubbiamente Perché permette Alle associazioni Non solo a Gaia Animal e Media Di avere Un piccolo budget Quasi sicuro Tutti gli anni Cioè siamo in periodo Di Dichiarazione Dei redditi Che è sempre un momento Insomma un po' Sanguinolento Per tutti noi Però insomma È giusto pagare le tasse E c'è la possibilità Di devolvere Il 5x1000 A un'associazione Che si sceglie Per scegliere Gaia Animal e Ambiente È molto semplice Si fa la firma Sul riguardo Delle associazioni E si mette Il codice fiscale Di Gaia Animal e Ambiente Che si trova sul sito E questo permette Appunto All'associazione Di volontariato Di avere Qualche soldino Per poter fare Le proprie iniziative Per poter mantenere Nel caso nostro I cani e gatti Nei rifugi Quindi utile Non è che Se non si mette Nessuna associazione Non viene prelevato Il 5x1000 Il 5x1000 Viene prelevato Comunque Quindi sempre meglio Comunque indicare Un'associazione Che fa Un tipo di volontariato A cui siamo vicini Benissimo Ricordiamo Franci In conclusione Il 5 maggio Importantissimo All'ora 21 Ovviamente È un evento Dedicato ai tuoi elettatori Giusto Però Se ci fosse Qualche tuoi elettatore All'ascolto Ricordiamo Che il 5 maggio All'ora 21 L'onorevole Sara Moretto Sì Ecco Ci sarà proprio Una diretta Dove discuterà Questa proposta Di legge Per far Riconoscere La categoria Dei tuoi elettatori Che è importantissimo Per dare un'identità A questa categoria E soprattutto Una preparazione Già la federazione Nazionale Toilettatori Fa tantissimi corsi Per preparare Ovviamente I futuri Toilettatori Perché come abbiamo capito In questa trasmissione È importantissimo Non improvvisarsi Perché Ricordiamoci Che quando diamo Il nostro animale In mano A un toilettatore Ovviamente Non è soltanto Un momento relegato Al bagnetto A tornare fuori Pulito e profumato È un momento Per il nostro cane Che può essere Anche stressante Però Se in mani corrette Ovviamente Innanzitutto Il pelo ne risentirà Perché verrà trattato Nel modo corretto Si eviteranno Danni Che possono essere Permanenti Per la cute E il pelo Del nostro Cagnolino O gatto Perché poi ci sono Anche tanti gatti Conigli Esatto Che vanno In toilettatura Federazione Nazionale Toilettatori E ringrazio Anche tantissimo Edgar Meyer Ovviamente Per tutto Quello che fa Per gli animali Presidente di Gaia Animali E ambiente Grazie anche a voi I nostri cari Telespettatori Che ci seguono Sempre E noi ci vediamo La prossima settimana Arrivederci Buon proseguimento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti